partita la regata direzione punto della bretagna un vento di circa 18 nodi di bolina con un passaggio di fronte previsto verso sera tutto bene a bordo e seguiteci sul nostro sito prismian racing per la nostra bellissima campagna di fundraising un click un metro di capo per portare l'elettricità in domenica ciao a tutti